Eccoci, troviamo Siamo sempre qui a San Nicola e volevo far dire due parole alle persone che fanno parte del comitato di San Nicola che organizzano questa bellissima festa. Prego Nicoletta. Buongiorno a tutti, siamo contenti che siamo ripartiti in questa nuova grande avventura. Siamo felici perché abbiamo avuto in questi giorni tantissime persone che sono venute qui sotto il tendone. Ci sentiamo una grande famiglia e ci siamo ritrovati dopo questi due anni di pandemia e siamo felici perché abbiamo visto che i nostri cari amici che ci sono sempre venuti a trovare sono di nuovo tra noi. Quanti siete come comitato? Siamo veramente in tanti e non solo persone della contrada ma sono persone che abitano anche fuori paesi del Menno ma che si sentono comunque della zona e si sentono legati a San Nicola. Allora stasera abbiamo la messa, Santa Messa alle ore 18 e sotto il tendone vi iniziamo a aspettare già dalle 18.30-19 per la cena. Vi aspettiamo tutti quanti, siamo felici della buona riuscita. Buongiorno a tutti, sono Antonio, faccio parte del comitato San Nicola, associazione che conoscete benissimo, ormai da diversi anni opera sul territorio di almeno San Salvatore con attività orientate al recupero della chiesa di San Nicola. Quest'anno la festa è iniziata il 2 settembre, continuerà fino all'11 settembre, domenica 11 settembre. Il ricavato della festa sarà totalmente utilizzato per il restauro delle formelle. Un progetto iniziato nel 2016, noi abbiamo partecipato al progetto luoghi del cuore del FAI, siamo arrivati sesti nella classifica nazionale con 29.735 persone che hanno votato, che hanno indicato la loro preferenza per questo bellissimo luogo di almeno San Salvatore. Il progetto è imponente, il restauro delle formelle, quindi formelle in cotto, decorate a mano, richiede un notevole sforzo economico, quindi finanziario, ma noi ce la faremo grazie al vostro aiuto. Partecipate, vi aspettiamo, grazie mille. Ricordami che adesso cosa vai a fare? Ora suono le campane. E ci manderà poi il video. E farò vedere il video. Grazie.